Ciao a tutti e a tutte le inseguitrici e gli inseguitori di Giardinaggio Irregolare. Da oggi vorrei partire con una serie di podcast su un libro a cui tengo veramente tantissimo, Le radici storiche dei racconti di fate o di magia di Vladimir Propp. La mia edizione è la universale scientifica Boringhieri dal costo di 3000 lire. Perché mi metto a farvi podcast su un libro che è poco conosciuto, che sono circa 600 pagine? Perché ritengo che sia poco conosciuto, troppo, veramente troppo poco conosciuto e che meriti di essere letto e studiato. A me ha aperto gli occhi su molte cose, su molto dello spettacolo, dell'intrattenimento che seguo normalmente. Non è un caso, infatti, che sia arrivata a questo libro attraverso gli show Marvel. Era il periodo in cui andava in streaming Vandavision. Io non sono un'appassionatissima di Vanda, non ho visto troppo bene la serie, non l'ho seguita troppo bene. Però mi dava un po' fastidio che questa personaggia fosse stata spostata, ma non lei in particolare. In generale, tutto l'insieme Marvel, Vanda, Loki, anche il Dottor Strange, però lì è un altro discorso, fosse stato spostato dalla scienza alla magia. Che è una cosa che io non digerisco. Il primo Thor era partito proprio così, con il primo Thor del zio Kenny. Ricordiamoci, lo Kenneth Branagh, che ha fatto fare Iago a Tom Middleston, che adesso ci sta riempiendo il cuore con questa seconda stagione di Loki, per la quale io veramente ho perso la testa. Il mood, diciamo, di Thor era che quello che ad Asgard era scienza, insomma era un potere, un controllo sugli elementi, sulla materia, veniva interpretato, era stato interpretato come magia dai terrestri, e quindi questi erano stati definiti come divinità. E' una cosa anche abbastanza interessante, se vogliamo, semplice, però è stata molto efficace nel film. Loki, invece, arrivato alla TDA, dice Ah, ma anche qui avete la magia. E adesso stiamo vedendo che comunque ne parlano esplicitamente di magia. Io ero un po' confusa da questa situazione, non l'ho presa bene, non l'ho neanche interpretata bene. Mi ricordo che misi un commento sotto un account molto importante della Marvel, diciamo fan Marvel, in inglese, americano, scrivendo, eh ma, insomma, questo spostare dalla fantascienza, alla magia, insomma, non mi ricordo neanche troppo bene cosa scrissi, espressi uno scontento, risposte di sotto, adesso non me le ricordo neanche, però mi ricordo questa, la classica, ma l'hai scritto davvero? Ovviamente in inglese. Io sono una persona che legge tutti i commenti, legge tutte le risposte, leggo tutti i commenti della mia pagina, non ci crederete, anche quelli con la faccina, con le manine che applaudono, tutti, tutti li leggo, e penso a tutti, non che li prenda male, li prendo per quello che sono, e per quello che possono interessare a me. Questi americani erano tranquilli con questo fatto, quindi già una forma di percezione differente, va bene, che è data dalla posizione geografica, dalla cultura del popolo, insomma, delle nazioni differente, eccetera, dall'età anche del pubblico, quindi ci stava questa risposta, però effettivamente non è che mi risposero in maniera chiara, per loro era data acquisita questa situazione in cui i personaggi usano la magia, per me invece era data e acquisita quella situazione in cui i personaggi usavano la tecnologia. Però dissi, beh, se qualcuno mi scrive, ma l'ha scritto davvero, devo essere un pochettino fuoristrada, e mi sono un po' arrovellata, ho detto, ma devo capire cos'è la magia, cosa si intende socialmente, culturalmente, etnologicamente, per magia, cos'è la magia, non che quello lì, spetto patronus, esce fuori il cerbiato, no, è un'altra cosa, non quella là, ma la magia, cos'è veramente, cosa si intende a livello etnografico, per magia. E sono andata a pescare nella bibliografia di quel grande autore, che è Vladimir Propp, che conoscerete tutti quanti, per morfologia della fiabba, sono uscite le carte di Propp, cosa non è uscito su Propp, però tutto relativo alla morfologia della fiabba, che tra l'altro è uno scritto antecedente, a questo che sto, su cui voglio fare il podcast, le radici storiche dei racconti di fate o di magia. Questo qui, le radici storiche, chiamiamolo così per far breve, è stato portato però, molto tempo dopo, in Italia, perché Propp è uno studioso marxista, quindi l'impostazione è assolutamente quella. Propp fu uno studioso strutturalista, quindi estremamente puntuale, preciso, con un'analisi dei fondamenti, una base estremamente solida, è come dire, oggi, sulla etnografia, è come dire, il teorema di Pitagora, non si abbatte, praticamente non puoi andare oltre, se non sai quello, e le tabelline, quindi se può non piacervi, quell'impostazione molto rigorosa, non so che cosa dirvi, probabilmente non è il libro per voi, però, ad oggi, non è stato scritto nulla, di altrettanto preciso. L'eroe dei mille volti ha una base, mi viene anche un po' da ridere, basata su Jung e Freud, che, insomma, non ritengo attendibili in etnografia, in etnologia, in una disciplina totalmente differente dalla loro pertinenza. Tra l'altro, lui stesso, ne ha abbastanza per tutti, ne ha anche per il papà di Ursula Le Guin, Kreber, si chiamava questo etnologo, il quale aveva raccolto del materiale degli indiani del Nord America, dei nativi del Nord America, in inglese. Quindi, capirai che mi interessa a me, non... l'avessi raccolto tu conoscendo la lingua e poi tradotto tu, allora già potrei anche capire e seguirti, ma se l'hai raccolto direttamente in inglese e non conosci la lingua degli Amerindi, ciao, ne caro mio. Attraverso lo studio di Prop è molto più godibile la fruizione dei prodotti dell'intrattenimento con personaggi fiabeschi o comunque con queste strutture appunto propiane, cioè i viaggi, l'eroe, la morte, il trono di spade, il signore degli anelli, in parte, molto religioso quello, però possono essere visti con questo focus, questo punto di vista propiano e indagati in maniera molto molto interessante. Ovviamente anche gli studi di Prop hanno dei limiti, in particolare la poca attenzione verso la componente femminile della situation. Allora, Prop parte dallo studio delle fiabbe russe ed è stato edito, mi pare, qualche anno fa da Mimesis, la fiabba russa che è praticamente la sua Magnum Opus e che io ancora non ho iniziato ma devo leggerla, spero nel prossimo anno di riuscire a iniziarla e potervene parlare anche. Parte da questo materiale russo perché è poco contaminato, lo dice chiaramente, ma se io vado a cercarmi le fiabbe, le favole di Calvino, perché noi in Italia abbiamo poche fiabbe, poche favole, termini che poi sono sovrapponibili in questa traduzione fatta da Clara Coyson, credo che si pronunci Coyson perché la I alla dieresi, quindi non penso che si chiami, che si pronunci Clara Coyson, però questo è il nome, e c'è una bella introduzione di Cirese, di Alberto Mario Cirese. Beh, lui parte da questo materiale perché dice poco raffinato, quindi è stato poco alterato rispetto a quello che invece c'è in civiltà molto più antiche. Facciamo conto che lui inizia a raccogliere questo materiale un po' verso l'unità d'Italia, 1860 circa, perché le raccolte di fiabbe russe sono state le ultime a uscire in Europa, mentre quelle dei fratelli Grimm di Andersen erano precedenti ed erano quindi già state alterate, già state elaborate dalla mano dell'artista, del narratore. Figuriamoci il materiale della zona mediterranea ellenica che già nel 2000 anni fa era estremamente raffinato era poesia era narrazione a tutti gli effetti si erano completamente perse le tracce del folclore perciò noi abbiamo nell'areale mediterraneo non abbiamo molte storie di fate fatine e folletti e queste cose qui perché la nostra civiltà è estremamente antica. In civiltà invece un po' più recenti più moderne che si sono avviate alla modernità in tempi più recenti il folclore è più attendibile prop è un tipo preciso secondo me era quello che a casa sua separava i calzini neri da quelli bianchi le camicie bianche da quelle colorate una cosa veramente amicidiale povera moglie non lo so se era sposato quindi si para bene il posteriore mettendo tutte le cosine al suo posto io mi spingo fino a qua su questo io questo vi posso spiegare la mia parte si perde un po' di tempo in entrata in questo libro con introduzioni note spiegazioni eccetera però io vorrei farvi entrare subito nel mood e questo ve lo prendo dalle premesse il capitoletto 6 il racconto di fate e il rito da molto tempo è stato notato che il racconto di fate presenta un certo nesso con la sfera dei culti con la religione a rigor di termini il culto la religione possono dirsi un istituto lui dice in termini marxiani i marxisti tuttavia così come il regime si manifesta negli istituti l'istituto della religione si manifesta in determinati atti di culto ognuno di tali atti non può dirsi un istituto e il legame del racconto di fate con la religione può essere oggetto di un problema particolare derivante dal nesso del racconto di fate con gli istituti sociali quindi attenzione poi cita Engels che comunque è un autore che andrebbe letto tutto perché Engels veramente è stata una mente non solo per quello che riguarda la politica ma anche la società la cultura in generale era il cuore dello studio sul socialismo sul capitalismo è stato Engels quindi dice non si può confrontare il racconto di fate con un regime sociale in genere e non lo si può confrontare con la religione in genere bisogna confrontarlo con manifestazioni concrete di quella religione cioè con il rito non con il pensiero soggiacente alla religione l'ideale il principio ma con la manifestazione pratica quella che noi chiamiamo ritualità usanza vediamo invece il rapporto con il mito il mito e il racconto di fate non si differenziano per la loro forma qui siamo già al capitoletto 10 ma per tutta la funzione sociale che c'è dietro quindi probabilmente sta dicendo come forma come apparenza nel senso come tipo di scrittura modo di narrare potrebbero sembrarci simili ma dietro al mito c'è tutta una funzione sociale diversissima da quella del racconto di fate fatta la premessa conclusa la premessa prop inizia a affrontare uno per uno i i temi narrativi gli strumenti narrativi della della fiabba o della favola o del racconto di fate o di magia mi soffermo un attimo su questa su questa differenza su questi termini nell'edizione che ho io della Boringhieri è stato tradotto racconto di fate mentre nella mi pare nelle edizioni successive questa mi pare sia del 46 e il 72 questa è stata pubblicata nel 72 è un bel po' datata è stato usato questo titolo mentre in quella successiva mi pare che sia stato tradotto racconti di magia in realtà è più è più preciso racconti di magia non racconti di fate diciamo che qui il titolo riecheggia un pochettino la distinzione che utilizzano gli anglofoni il fairy tale è il racconto di magia che genericamente loro indicano come un racconto di fate non in questi racconti però non ci sono le fate non ce n'è neanche una la fata anzi credo che sia una creatura decisamente posteriore quindi fiabba favola vengono utilizzati in maniera assolutamente intercambiabile mentre a noi hanno detto che la fiabba appunto è il racconto di magia mentre la favola ha l'intento didattico in realtà si no ba bibo non c'è una formula che lo prescrive e anzi nell'areale mediterraneo questa distinzione è veramente poco significativa la favola potrebbe essere non folcloristica cioè non nata dal racconto orale dalla tradizione orale quindi dal popolo ma potrebbe essere creata dal dal narratore e sì questa è una differenza che ci può essere però io non sarei fiscale ricordo che un un amico mi disse un ex amico ci sarà una ragione perché è ex amico mi disse ah ma una mia una mia collega di studi ti avrebbe staccato la testa va per per questa cosa qua insomma abbiamo capito perlomeno spero che bisogna essere molto elastici quando si tratta di argomenti intanto con scarsissime fonti con materiale poco studiato con ancora molto studio davanti quindi l'essere tecnici non non si può e quindi non è non è corretto neanche chiederlo chiederlo agli altri esserlo se si vuole si può essere ma chiederlo agli altri no e andiamo avanti capitolo secondo l'intreccio il capitolo primo sono state le premesse il distacco i bambini nel carcere il distacco sin dalle prime parole del racconto in un certo reame in un certo stato l'ascoltatore si sente di colpo trasportato in un'atmosfera particolare in un'atmosfera di epica calma ma questa atmosfera è ingannevole dinanzi all'ascoltatore si svolgono ben presto avvenimenti pieni di tensione e di passionalità la calma è soltanto un involucro artistico che contrasta con la passione interiore e con la dinamica tragica e anche talvolta comicamente realistica più avanti troviamo c'era una volta un contadino che aveva tre figli maschi oppure un re con una figlia oppure tre fratelli insomma il racconto mette in scena una famiglia per dire il vero bisognerebbe incominciare dall'esame di questa famiglia fiabesca ma gli elementi del racconto sono così intimamente legati tra loro che il carattere della famiglia con la quale il racconto incomincia si può scoprire soltanto gradualmente man mano che si svilupperanno gli avvenimenti limitiamoci a dire che la famiglia vive felice e tranquilla e così potrebbe vivere per molto tempo se non si verificassero piccolissimi e impercettibili eventi che a un tratto del tutto inaspettatamente scatenano la catastrofe quindi questa famiglia potrebbe vivere tranquillamente per tutta la vita ma succede qualcosa il papà deve andare a commerciare a Samarkand deve vendere il tappeto il principe deve andare da una parte il re muore il padre muore il nonno muore succede qualche cosa di seguito a questo qualcosa che succede ci sono dei divieti imposti a quelli che rimangono non devi uscire la sera dopo la mezzanotte non devi dargli da mangiare dopo mezzanotte non li devi bagnare non devi esporli alla luce perché altrimenti succede male io li ho bagnato il mio gatto e si sono moltiplicati non lo sapevo non gli avrei mai fatto il bagno poi Fraser continua Fraser chiedo scusa Propp continua con i divieti imposti i divieti speciali imposti ai figli di re perché la figlia del mercante non deve uscire di notte non deve dargli da mangiare dopo mezzanotte queste cose così i re e i figli di re hanno principi hanno degli obblighi speciali perché perché all'epoca all'epoca che non sappiamo bene quale epoca e in generale quest'epoca folcloristica di cui stiamo parlando cambia cambia da paese a paese e da geografia a geografia i re erano i capi tribù che avevano il potere sugli elementi quindi il potere di far piovere il potere di far arrivare i bufali in modo da avere la carne per l'inverno e queste cose qui sostanzialmente il re il capo tribù il capo clan aveva il potere di sfamare il il suo popolo e quindi doveva essere estremamente riguardato un po' come il presidente nel air force one presidente presidente vado nella capsula tutte queste cose qui hanno una logica il re feticcio dei benin che era considerato una divinità non doveva mai abbandonare la reggia il re di luango è legato alla sua reggia e gli è vietato di abbandonare il anche le le mura anche jasmine non poteva uscire dalle mura jasmine in aladin i re di etiopia venivano divinizzati ma erano rinchiusi nelle nelle regge e se tentavano di uscire erano presi a sassate è curioso che curioso no è nello spirito di prop che lui citi fraser su questo su questo capitolo perciò mi sono confusa fraser è la sua nemesi lui lo lo detestava abbastanza però è riuscito a ad essere equanime e ha riconosciuto lo studio di fraser per quello che era insomma l'importanza del del materiale che lui aveva raccolto è stato è stato insomma molto molto fair ha fatto molto fair play molto molto onesto proprio procede con un elenco delle delle situazioni dei popoli che hanno scritto fiabbe con il motivo della reclusione quindi a parte il re protetto c'è anche la principessa tutti i figli di re o comunque i capoclan l'aria è piena di pericoli esseri misteriosi sempre pronti ad attaccare qui prop fa una ottima osservazione dice beh misteriosi aspetta perché misteriosi per noi misteriosi per l'etnografo che va e raccoglie il materiale ma non per il popolo che vive quella quella costruzione leggendaria c'è una una nota importante che poi nel futuro si rivelerà molto interessante procedendo con il libro la questione del sole dell'esposizione al sole questi questi bambini o leader comunque reclusi venivano spesso chiusi sottoterra scantinati in tuguri caverne portati lontano eccetera sottoterra al buio fuori dalla portata del sole in generale si ritiene che stare sottoterra indicasse che questi giovani acquisivano dei poteri insomma acquisivano potenziavano le loro capacità di comandare gli elementi quindi a portare benefici al popolo pioggia grano eccetera riso il sole dice prop è un po' tardivo non è un motivo molto arcaico nel folclore nella fiabba lo troviamo un pochettino tardi quindi se in una fiabba c'è questo c'è questa funzione questa narrazione questo motivo di un soggetto che viene condotto sottoterra la fiabba possiamo ragionevolmente pensare che la fiabba sia abbastanza vecchia antica conclusioni capitolo 7 del capitolo secondo paragrafetto 7 capitolo secondo l'intreccio abbiamo detto tutti i materiali qui esposti ci autorizzano alla illazione seguente il più antico substrato religioso del nostro motivo è costituito dalla paura delle forze invisibili che circondano l'essere umano le cause di questo fenomeno non sono ancora state sufficientemente elaborate dagli storici etnografi e non rientrano nelle competenze del folclorista vedete che lui già mette i paletti io sono folclorista voi siete etnografi cioè voi andate a recuperare il materiale io lo devo studiare e voi non avete recuperato abbastanza materiale e io come faccio a studiarmi qualcosa che non c'è pam una bella botta perché prop comunque le frecciatine non mancano questo timore fa sì che le fanciulle siano sottoposte alla clausura durante il periodo mestruale onde proteggerle da tali pericoli nel racconto beh questo attention battalion questo del reclusione durante il periodo mestruale è una cosa un po' a parte ecco questo è uno dei limiti di prop lo studio delle figure femminili lui ha fatto tutt'uno non fa distinzione anzi lui proprio utilizza termini unisex il soggetto la funzione la narrazione il leader cioè non non tiene molto spesso conto del sesso del protagonista dei personaggi se non in determinati casi specifici ed è un bene ma anche un male però nel periodo storico in cui è stato condotto questo studio era sicuramente un bene altrimenti avrebbe fatto un pochettino troppa confusione è meglio intanto iniziare a capire cosa e poi da lì scorporare anche un po' il chi comunque andiamo avanti nel racconto di fate torniamo a dire fate intendiamo racconto di magia questo fenomeno si riflette nell'immagine della fanciulla segregata nella foresta dove le crescono i capelli lunghi la polina per esempio col comparire del capore o del sacerdote queste medesime cure nelle medesime forme si esercitano nei riguardi del re e di tutta la famiglia quindi quando compare la figura del sacerdote o comunque di una persona vicina alla famiglia reale e queste cure vengono esercitate da questa figura i dettagli della segregazione dei re e i divieti che l'accompagnano corrispondono esattamente ai dettagli esistenti nel racconto di fate in particolare il racconto di fate riflette il divieto della luce i divieti connessi col pasto e col cibo il divieto di mostrare il viso e quello del contatto con la terra esso contiene soltanto tracce sporadiche dell'idea che il benessere del re segregato sia connesso col benessere del popolo nel racconto di fate troviamo la tendenza ad assicurare l'incolumità personale dei figli del re la fiabba utilizza il motivo della reclusione e la violazione di essa come preparazione artistica e come motivazione del ratto dei figli del re ad opera di serpenti e di altri esseri che compaiono improvvisi e senza che si sappia da dove nel racconto di fate la reclusione stessa non è mai motivata la sua motivazione con l'ira paterna è sempre sporadica qui cita Grimm ma non non la non la favola comunque la motivazione con l'ira paterna è sporadica e non è tipica del racconto di fate e costituisce una transizione verso il genere novellistico quindi già questa è un'informazione se stiamo leggendo una una fiabba una favola in cui c'è una ragazza reclusa a causa dell'isteria del papà sappiamo che ci troviamo di fronte a un prodotto già ormai elaborato questo motivo è passato nella letteratura narrativa anche come anche in quella popolare e a geografica quindi a geografica il racconto delle vite dei santi ma qui è spesso adombrato e deformato nelle fiabbe di contenuto novellistico dopo le nozze il marito costruì un palazzo per la moglie in quel palazzo fece una sola finestra già 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 dalla continuazione della fiabba risulta che tutto ciò fu fatto per mettere alla prova la fedeltà femminile il padrone della tenuta le costruì in cortile una torre una colonna di mattoni e la rinchiusa in questa colonna quindi cercano di spiegare dare una spiegazione a qualcosa che già allora mentre si scriveva questa fiabba si portava su carta questo racconto orale sembrava incomprensibile perché questa tizia deve essere chiusa dentro la colonna oddio perché ci aveva il marito geloso e per quale altra ragione lasciare una finestrella da cui purgevano i biscotti e acqua in realtà è un po' tutto molto più complesso ma lo sapremo dopo il motivo delle fanciulle e delle donne recluse è largamente sfruttato nella letteratura novellistica all'espediente della segregazione ricorrono i mariti gelosi d'altro canto le donne recluse sono rappresentate come sante martiri e questo motivo è passato anche nella letteratura ageografica questo è molto interessante procediamo e andiamo alla sventura e la reazione sempre capitolo due dell'intreccio e abbiamo diversi paragrafetti la sventura paragrafetto 8 c'è una sventura qualcosa capita è una forma fondamentale dell'intreccio dalla sventura e dalla reazione nasce il soggetto per esempio piove o è arrivato un pianeta da fuori che deve impattare sulla terra non c'è nessuna spiegazione per questa sventura non so le locuste le cavallette qualcosa non viene non viene veramente data nessuna nessuna motivazione c'è poi un combattimento che è estremamente importante sempre questo lo sapremo dopo l'eroe deve partire questo questo tizio in genere è un maschio ma può essere anche una una ragazza una giovinetta si deve munire di un'attrezzatura adatta samurai vestizione e c'è il rito della della vestizione che non è proprio solo del racconto di fate ma anche dell'epopea cioè per esempio dell'odissea e dei romanzi con le don kishote e io citerei anche i quattro moschettieri i tre moschettieri quando d'artagnan deve comprare tutte le cose che gli servono c'è solo la spada praticamente il cavallo eccetera è molto importante perché a seconda della munizionamento diciamo così del che l'eroe di cui l'eroe si deve indotare capiamo che tipo di viaggio abbiamo davanti per esempio e qua è la parte veramente figa di prop in una fiabba del nord america dicono ma ti devi comprare i mocassini delle scarpe più resistenti dato che le sepolture erano spesso in acqua e venivano sepolti con i mocassini già capiamo che si tratta di un viaggio impegnativo e capiamo anche perché i morti vengono sepolti con una dote a ogni oggetto di cui si munisce l'eroe corrisponde una posta una sosta che poi potrebbero anche ricordare la via crucis il capitolo 2 l'intreccio ci lascia un pochettino così in sospeso non ci spiega molto non ci dà una conclusione ci prepara semplicemente ai capitoli successivi in cui verranno analizzati elemento per elemento tutti gli altri e poi piano piano si inizierà a formare un'immagine d'insieme spero che vi sia che sia gradito questa semilettura spiegazione condensatissima io vorrei fare il capitolo il capitolo terzo nella nella prossima sessione considerate che un capitolo sono circa un centinaio di pagine quindi cercare di riassumerne uno in ogni podcast vi consentirebbe di finire la lettura di l'ascolto spiegazione di questo libro in una decina di sessioni anche se sono lunghe fatemi sapere nei commenti se avete piacere o se proponete una diversa forma di lettura spiegazione vi ringrazio tutti e tutte iscrivetevi se volete mettete un like se vi è piaciuto un commento e condividete grazie ciao